A questa sera copri fuoco alle 22 Natale festività in casa con conviventi e diventi di spostamento nel DPCM in vigore da oggi fino al 6 gennaio. Il ritorno a scuola in presenza non è così scontato, mancano i soldi per il trasporto pubblico, senza quelli potrebbe saltare tutto. Aiutaci ad aiutare e stasera per Operazione Natale vi raccontiamo la storia di Giancarlo. Domani il Brescia-Reggio Calabria, mentre per la pallacanestro Germani il debutto in panchina di Maurizio Buscaglia. La commedia delle pentole continua a cucinare per te anche in questo periodo, con tutti i suoi piatti pronti per l'asporto. Menù di lavoro dal lunedì al venerdì, menù alla carta a pranzo dal lunedì alla domenica, a cena il giovedì, venerdì e sabato. Il menù spiedo, venerdì e sabato a pranzo e cena la domenica a pranzo. Chiama Maurizio, prenota il tuo asporto al 340-061-2225 e passa a ritirarlo in via Zara 125 a Brescia. La commedia delle pentole, tutto il nostro menù è anche sulla nostra pagina Facebook. Buonasera dal telegiornale. Dunque, come avete sentito dai titoli, c'è il DPCM che è entrato in vigore quest'oggi e fino al 6 gennaio ci dirà come dovremo trascorrere questo Natale 2020, ma anche ultimo dell'anno, primo dell'anno con tutte le limitazioni e tutto ciò che potremo e non potremo fare. E allora, andiamo subito in riepilogo a rivedere le nuove regole. Da oggi al 6 gennaio è in vigore il nuovo DPCM, coprifuoco alle 22. Dal 21 dicembre a 6 gennaio stop agli spostamenti fra regioni e province autonome. A Natale, Santo Stefano e Capodanno vietate gli spostamenti anche fra i comuni. Nella notte di San Silvestro divieto di uscire dalle 22 alle 7 del mattino. Feste solo con conviventi, senza divieti, ma con una forte raccomandazione e appello alla responsabilità. Deroghe per gli anziani soli. Protesta delle regioni e anche del presidente Fontana per non essere stati ascoltati dal governo sui dibieti agli spostamenti. Gli impianti sciistici rimarranno chiusi fino al 6 gennaio. Gli appassionati potranno tornare sulle piste dal giorno successivo. Sempre il 7 gennaio, prima campanella è in presenza con il 75% degli studenti che potrà tornare in aula. Bar e ristoranti, nelle zone gialle, potranno restare aperti dalle 5 alle 18. Nelle zone arancioni e rosse, dalle 5 alle 22, ma solo per asporto. Ristoranti aperti a pranzo, nelle zone gialle, anche nei giorni festivi del Natale. Una particolare specifica, appositamente studiata per l'ultimo dell'anno, prevede la chiusura dei ristoranti all'interno degli hotel. Dovranno chiudere alle 18, ma potranno continuare a lavorare effettuando il solo servizio in camera. Non cambia nulla per quanto riguarda i negozi, così come per i centri commerciali che resteranno chiusi nei fine settimana e nei festivi, fatta eccezione per i negozi di prima necessità. Il governo dunque ha deciso il rientro a scuola il 7 gennaio per il 75% in presenza, il 25% ancora in didattica a distanza. Ma c'è il nodo trasporti che sembra tutt'altro che risolto. Anzi, senza soldi, questa volontà potrebbe anche saltare. Ne abbiamo parlato con Claudio Bregaglio, presidente dell'Agenzia TPL, Trasporto Pubblico Locale di Brescia. Il rischio evidentemente c'è se si rimane alle posizioni di queste ore. Noi abbiamo poco tempo a disposizione e questo poco tempo va utilmente valorizzato, in modo tale da poter avere tutti i vari soggetti che verranno peraltro portati al tavolo, perché lo stabilisce il DPCM che è stato firmato ieri, che sia il tavolo prefettizio anche a poter intervenire in maniera autorevole. E questo è un fatto di assoluta novità. Ma alla domanda il rischio c'è, la mia risposta è il rischio c'è, anche perché noi senza risorse cominciamo il 7 gennaio ad operare in maniera assolutamente dolorosa per quanto riguarda il taglio del trasporto pubblico. Dal punto di vista dell'organizzazione, avere il doppio ingresso 8-10 e nel contempo il 50% sui pullman, dal punto di vista tecnico, è nella condizione di poter scongiurare l'addensamento rischioso sui pullman. Ma il problema vero è se i pullman escono dai depositi oppure no. E questo dipende solo dalle risorse e da null'altro. E un discorso a 360 gradi lo faremo tra poco con Claudio Baragaglio, ospite di 7 e mezzo in apertura del nostro appuntamento di questa sera. E cercheremo di capire bene, insomma, dov'è il punto politico, ma dov'è il punto poi economico e dove è la situazione, a che punto siamo. Ora invece andiamo sui dati di Regione Lombardia, che fotografano la situazione in queste ultime 24 ore sul nostro sito internet e live Brescia.tv. Eccolo qui in home, numeri stabili con più tamponi, 147 morti in Lombardia, tantissimi. Ma certo, ben lontani dai 347 di ieri, che erano veramente un numero spaventoso. E a Brescia ci sono 442 casi. Vediamo nel dettaglio l'infografica di Regione Lombardia, come sempre per gli altri dati, un po' più nel dettaglio. Vedete che ci sono ancora i segni in meno sul ricovero in terapia intensiva, meno 14, quindi scendono a 822, e addirittura meno 233 persone ricoverate non in terapia intensiva. Quindi i dati sono indubbiamente molto buoni, 6792. Ci sono 4533 nuovi positivi con un incremento di tamponi pari a 42.276, quindi un numero molto alto di tamponi e un numero di positivi in decisa frenata. 147, numero ancora altissimo per quanto riguarda i morti, certo lontano dicevamo da quello di ieri. I nuovi contagi sono 442 a Brescia, ancora un numero considerevole, 490 per esempio a Barese, 580 milano città, 1.463 con la provincia. E questi sono i dati che trovate appunto sul nostro sito internet. Parliamo di Operazione Natale, il nostro appuntamento con l'associazione Circo Bissolati, che stiamo cercando di aiutare perché a sua volta sta aiutando coloro che sono davvero in grandissima difficoltà. Chi lo era già, chi ha perso il lavoro, chi si trova in una condizione di povertà proprio dettata dalla Covid. E questa sera vi raccontiamo la storia di Giancarlo. È dedicata perché non c'è sfogo di possibilità di trovare lavoro. Io ho chiesto, non neanche nelle cooperative, neanche a pulire i marciapiedi, i giardini, gli faccio i giardini, non c'è assolutamente tutto fermo. Tu hai perso il lavoro? Sì. Cosa facevi? Io facevo l'ambulante, poi ho dovuto fare un'operazione alla spalla, avevo una cica qui, ho dovuto correre qui in poliambulanza per mesi e mi hanno operato a novembre. Tu quindi da quanto tempo sei fermo? Io da novembre, dicembre, ma io ogni tanto faccio un giardino, prendo i 20-30 euro e sopravvivo perché io pago le bollette, io vorrei pagare le bollette, io c'ho qui lo sporco del comune, 92 euro dello sporco, però non riesco a pagare, se pago quello mi faccio a vivere, perché dopo ci sarà a gennaio che mi arriva la bolletta, io adesso sto usando il riscaldamento, ma la dove ha? Manda. Tu hai spento il riscaldamento in questi giorni? Sì, in questi giorni non l'ho acceso, proprio, e non è bello, capito? Non è una bella situazione, quindi io vivo di qualcuno che mi chiamano e mi dice ascolta, c'ho un pezzo di giardino a pulire, mi porti via le foglie, ho la legna da portare dentro, faccio quei lavori lì, che sono rimunativi perché ti danno i 10, 15, 20 euro, i 30 euro quando ti va bene, che però adesso non fanno più perché la gente non ha più soldi, anche quelli che stavano bene sono in difficoltà. Quindi non... e come stai facendo in questo periodo? Mi arrangio come posso. Si rinuncia a carne, formaggio, verdura, si rinuncia a tutto. Vai avanti con la pasta, la pasta e vivi di quella. Piadine, ti danno le piadine, ma piadine però senza il prosciutto dentro, solo piadine, capito? Solo il pane. Sì. Questa dunque è la storia di Giancarlo, se volete aiutarlo, hai in sovraimpressione tutti i dati, oppure la pagina Facebook dell'Associazione Circolo Bissolati. Il tempo ora, domani ancora freddo, ancora pioggia su gran parte della nostra regione e provincia. La nuvolosità è attiva sull'Italia, un'intensa perturbazione associata a questo centro di bassa pressione che condiziona il tempo in tutta l'Europa centro-occidentale. Controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia e come vedete, soprattutto nelle regioni settentonali, sul versante tirenico, la nuvolosità sarà estesa e compatta e poi a fine giornata peggiora anche nel resto del paese, quindi anche al sud arriveranno poi le prime nuvole e le prime piogge. Controlliamo intanto la previsione delle precipitazioni per questo sabato. Il grosso è atteso sulle regioni di nord-est, in Lombardia, nell'Italia centrale, specie versante tirenico e poi, come vi dicevo, a fine giornata arrivano acquazioni temporali anche al sud. Quindi, in definitiva, ci attende un sabato molto variabile e instabile in tutta Italia con piogge diffuse al nord, versante tirenico anche sotto forma di acquazioni temporali e tantissima neve sull'arco alpino e in alcune zone supereremo anche il metro di neve fresca. Sul medio adriatico e al sud, situazione buona, ma a fine giornata peggiora nelle regioni meridionali a iniziare dal versante ionico. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi anche domenica, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. La cronaca ha tentato di estorcere 700 euro a un 22enne per non divulgare su chat alcune foto compromettenti. È finito in manette. Gli aveva chiesto 700 euro, altrimenti avrebbe diffuso alcune sue fotografie private. Un 36enne pakistano è stato però arrestato dalla squadra mobile della questura di Brescia al momento dello scambio. La vittima è un giovane di 22 anni che pochi giorni fa si è visto arrivare un messaggio su WhatsApp in cui l'estortore gli chiedeva dei soldi in cambio del silenzio. In caso contrario avrebbe diffuso delle immagini compromettenti del ragazzo. Lui però non si è fatto prendere dal panico e ha denunciato il fatto agli uomini della questura. A quel punto la polizia si è subito attivata per chiarire la vicenda e una volta verificata la veridicità dei fatti ha organizzato una finta consegna del denaro per poter così incriminare il malvivente. La stazione è stata al teatro di questo scambio con gli agenti ben nascosti e pronti a intervenire. Concluso l'accordo le divise sono uscite dei loro nascondigli e hanno arrestato l'uomo che è stato trasferito in carcere con l'accusa di estorsione. E' ancora in gravi condizioni l'uomo ferito al collo in stazione a Desenzano del Garda. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica. Erano da poco passate le 23.30 di giovedì quando sono stati allertati i soccorsi al 118 per l'accoltellamento di un uomo nella zona della stazione di Desenzano del Garda. Immediata anche la chiamata ai carabinieri della stazione locale visto l'evento violento. Giunti sul posto i sanitari hanno tentato di stabilizzare la vittima a un settantenne di Lonato del Garda che presentava una vistosa ferita d'arma da taglio al collo. In codice rosso e in pericolo di vita è stato subito trasportato al vicino ospedale di Desenzano dove si trova ancora in osservazione. Compito dei carabinieri invece è stato quello di provare a rintracciare l'aggressore ed effettivamente questa ricerca non è durata molto. I militari hanno subito identificato il violento, un quarantenne di origine pakistana e l'hanno scortato nel carcere di Brescia in attesa della convalida. Ancora oscure le motivazioni di questo grave gesto ma dalle prime indagini è stato appurato che i due uomini si conoscevano bene e già da diverso tempo. Ed ora in breve le altre notizie di cronaca. In tre stavano consumando tranquillamente al bancone in violazione delle norme anti-covid che impongono per i bar l'asporto e per i clienti il divieto di consumare anche in prossimità del locale. A sorprenderli sono stati i carabinieri di Vestone in un bar nella zona centrale del paese. I tre clienti sono stati multati. Il proprietario del locale, oltre alla sanzione, dovrà rimanere con le serrande abbassate per ora per cinque giorni ma il prefetto potrebbe estendere l'obbligo di chiusura. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Brescia per estrarlo dall'abitacolo della vettura. Per causa del vaglio della polizia stradale un 34enne al volante della sua auto in via Chiari è travagliato affrontando una rotonda e finito nel campo adiacente ribaltandosi. È accaduto ieri sera attorno alle 21. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Brescia con un autogru per estrarre il giovane dalla vettura e consegnarlo quindi ai sanitari del 118 che lo hanno ricoverato in codice giallo alla polimbulanza di Brescia. Adesso parliamo del nostro castello perché potete votarlo per far sì che all'interno del FAI sia tra le mete più ambite. Io credo che questa sfida sia una sfida che meriti il massimo dell'attenzione da parte dei cittadini. È anche un gioco perché si tratta semplicemente di esprimere la propria vicinanza, la propria passione, il proprio legame affettivo è uno dei luoghi più emblematici, più importanti della Lombardia perché se siamo primi in Lombardia non è casuale, non è solo un gioco delle parti ma anche perché il valore, l'importanza, l'estensione, la significanza del castello fanno parte dell'immaginario collettivo di chi quando guarda Brescia ne vede uno dei monumenti più significativi e più importanti. Quindi non moliamo, è una gara appassionante e bella e che avrà un grande effetto positivo in ogni caso, lo sta già avendo ma lo avrà ancora di più se saliremo sul podio, rende Brescia ancora più visibile. Quindi per noi questa operazione, questa sfida che si è innescata è una sfida in realtà molto funzionale al lavoro che stiamo facendo di riaccendere progressivamente i fari dell'attenzione del turismo internazionale e nazionale sulla nostra città. Quindi diamoci dentro e votiamo in massa. Breve pausa e poi apriamo la pagina sportiva. Rimanete con noi. Sanificare e sterilizzare tutti i vostri ambienti da oggi è diventato un gioco da ragazzi, con Apollo è la sola forza del vapore. Buona serata anche agli amici sportivi e allora domani un sabato di grande sport, anche qui su Elive ovviamente. Si parte con Diretta Stadio, con Fabio Petternoi e tutta la squadra per Regina Brescia. Vediamo i precedenti. Regina contro Brescia è la sfida del brivido per due squadre chiamate a fare punti per non rischiare di cadere nei bassi fondi della classifica. Ma la gara fra Amaranto e Biancoazzurri è una delle gare più frequenti della storia dei calabresi in Serie B. Il Brescia è infatti la squadra più affrontata dalla Regina nel campionato cadetto. Sono ben 30 i precedenti. 15 i confronti terminati in pareggio, 9 le vittorie dei padroni di casa e 6 le volte in cui il Brescia è riuscito a battere gli Amaranto nella sua storia. Questo il computo delle sfide giocata a Granillo. Regina e il Brescia si sono sfidate allo stadio Amaranto ben 15 volte. In 7 occasioni ha trionfato la Regina, 6 sono i pareggi e solo 2 le vittorie del Brescia. In totale sono 19 le reti segnate dalla Regina e 9 quelle del Brescia. L'ultimo successo del Brescia nella casa dei calabresi risale addirittura alla stagione 2012-2013. La squadra allenata da Alessandro Calori espugnò il campo Amaranto con un gol di Sebastian De Maio al minuto 54 della sfida. Fischio d'inizio fissato per le 15.30 di sabato. La prima ancora torna diretta stadio con Fabio Petteno e tutta la sua squadra per seguire insieme questa nuova sfida delle rondinelle. Mandaci i tuoi messaggi, le tue domande o le tue impressioni con un messaggio Whatsapp al 393 16 16 197 o commentando la diretta sulla nostra pagina Facebook. Adesso vi porto sul nostro sito invece per vedere i convocati della partita di domani 15.30 e dalle 15 diretta stadio. Sono i 17 convocati da Questi sono i convocati per la partita di domani. Ma domani sera invece l'appuntamento è con il basket e fra l'altro è un grande appuntamento perché sarà la prima volta di Maurizio Buscaglia sulla panchina della pallacanestro Brescia. I temi della partita sono due nel senso che noi dobbiamo cercare con coraggio e con determinazione di mettere in campo due parti del nostro lavoro. La prima parte riguarda quello che abbiamo fatto in questi giorni insieme, conoscendoci, con grandissima disponibilità da parte dei giocatori, con grande impegno, con fatica, che è una cosa molto importante, e nello stesso tempo, perché queste sono cose che ci devono aiutare nel proseguio, in quello che sarà poi quello che vogliamo essere, e nello stesso tempo avere un'urgenza forte per la vittoria, ovviamente, perché andiamo in campo per farlo. Lo dobbiamo fare secondo quelli che sono i nostri ora criteri, dobbiamo farlo secondo quello che noi abbiamo in mente di diventare, però nello stesso tempo avere veramente l'urgenza di capire che sono sfide tutte che devono muovere la classifica, che devono farci tornare indietro anche nel risultato il lavoro. La Fortitude è una squadra che non scopro io, che è di talento, è una squadra con tanti giocatori che hanno punti nelle mani, è una squadra che al completo ha anche una sua lunghezza, quindi insomma da quel punto di vista dobbiamo essere, ripeto, molto attenti. E' altrettanto vero che è un momento in cui mettiamo in campo noi stessi, e quindi c'è anche focus su come noi dobbiamo fare le cose per tutti i 40 minuti, anzi cercando di crescere all'interno dei 40 minuti. E un grosso in bocca al lupo allora a Coach Buscaglia per la partita di domani, ovviamente con Diretta Basket la seguiremo, con Alfredo Novello e Alberto Banzola, come sempre in diretta per raccontarci tutti i 40 minuti e aspettiamo anche i vostri commenti, come sempre. Mi fermo qui con il telegiornale, vi ricordo che tutte le notizie continuano ad aggiornarsi sul nostro sito internet, livebrecia.tv, sul quale trovate la diretta del nostro canale 16197 delle digitali terrestre. E altra cosa, se volete ricevere le notizie direttamente sul vostro telefonino, non dovete far altro che iscrivervi ai nostri canali Telegram, livebrecia News oppure livebreciasporte. Vi ricordo stasera, tra poco ci rivediamo per 7 e mezzo, con la prima parte parleremo appunto di scuola di trasporti con Claudio Bragaglio, presidente del TPL Trasporto Pubblico di Brescia, e poi seconda parte invece vi proporremo la presentazione proprio di Maurizio Buscaglia nella sede del pallacanestro Brescia, il suo arrivo e il primo incontro appunto anche con la stampa. Restart Brescia a partire dalle 21 in seconda visione, subito dopo però è la sigla del telegiornale, rimanete perché abbiamo una chicca, siamo andati a scoprire lo spiedo bresciano, come viene fatto lo spiedo bresciano da uno dei nostri amici, Maurizio, della Commedia delle Pentole. Da parte mia grazie per essere stati con noi e buona serata.